Seder, Charles Seder, che sia? Saluta. In te sei molto più di quanto credi. Non c'è solo dolore e rabbia, c'è del bene in te. Che cosa sai di me? Io so tutto. Qui hai l'occasione di far parte di qualcosa di molto più grande di te. Una nuova specie sta nascendo. Aiutami a istruirla. Formarla. Guidarla. I russi hanno mandato le loro testate nucleari a Cuba. Se la nave supera quella linea, risponderemo con una piena offensiva. Servirà il vostro aiuto per fermarle. Faremo la nuova divisione dei mutanti della CIA. Sono troppo pericolosi. L'umanità si rivolterà contro di noi. No se impediamo una guerra. No se restiamo la vita per farlo. Loro lo farebbero per noi. La legge si applica agli esseri umani. La stessa legge non vale per i mutanti. Non verremo mai aspettati. Dovremmo nascondersi. I poteri ci rendono migliori. Lo siamo già. La politica di questa nazione sarà di considerare ogni missile nucleare lanciato da Cuba contro ogni nazione dell'emisfero occidentale come un attacco da parte dell'Unione Sovietica agli Stati Uniti. Due superpotenze vogliono far scoppiare la terza guerra mondiale. Pronto all'azione? Scopriamolo. Possiamo porre fine per sempre a questa minaccia. I mutanti sono estetti con la terra. Il vero nemico è là. Gli esseri umani uccidere non ti darà la pace. La pace non è mai stata un'opzione.